Quindi Leader Busaga 200, beh ve l'avevo detto sono rimasti sul banale avrei preferito qualcos'altro perché però era abbastanza ovvio che sarebbe uscito Gotenks e che sarebbe stato Leader Busaga 200 perché? Perché per l'appunto tutti i Super Saiyan 3 e tutti i bimbi che prima non erano in Busaga sono entrati in Busaga e quindi era proprio scontato che uscisse Gotenks Leader Busaga 200. Buono da un lato perché potendo giocare il Busaga in mille modi è uno di quei personaggi che anche se non lo pullate lo potete giocare tranquillamente amico. Su questo ci può stare, è comunque vantaggioso non doverlo pullare per forza per quantomeno goderne in 200 perché probabilmente Goku a GL già gli dovrebbe dare la 200 perché Sì sì, Goku gli dà la 200 perché lui dà il 30% ai Kamehameha se non sbaglio. Chi consiglia come Leader se lui lo prende amico? Se c'hai Goku terzo, Goku oppure potresti montare un Kamehameha con Gohan Carnival STL e ci metti tutti i Kamehameha Busaga e tanto ce ne stanno migliaia adesso puoi montarti tranquillamente un Busaga fatto solo di PG con Kamehameha. Tra cui per l'appunto i due Goku Super Saiyan 3, sia quello in settiera del film di Hildegang sia quello Busaga. A prescindere da tutto si può non pullare anche solo per provarlo in una 200. Allora, diamoci subito i link. Super Saiyan, Fused Fighter, Rovino Flash, Kamehameha, Innocent, Fierce Bat, Legendary Power. Bel link set. Non è così importante il discorso dei link con il Gotenks Super Erza che deve andare in 11 ki, tanto comunque avendo lo stesso nome non linkerebbero, quindi... Ciaone, Ciaone a Gotenks Terzo. Però per tutti gli altri PG Fusion c'è sia Ovino Flash che Fused Fighter, quindi top. Super Saiyan, Kamehameha, non c'ha Limit Breaking Form, nonostante sia Super Saiyan 3, forse è un bene perché diamo spazio al link un po' più versatili come Kamehameha. E poi c'è quell'Innocent che lo farebbe linkare pure con gli altri Goten e Trunks, quindi... Ci sta. Preferisco quell'Innocent piuttosto che Limit Breaking Form. Ne va a svantaggio Goku Super Saiyan 3, Masticazzi. Passiva, Ki più set, attacca in F200, un'addizionale difesa 77% quando riceve un attacco... Più un'addizionale 77% di attacco within the same turn. Riduzione del Down del 22% per 5 turni. Da quando entra. Un'addizionale difesa 77%, riduzione del Down del 33% se c'è un altro Final Trump Card nel team, ma anche nel turno, quindi finché c'è un altro Super Saiyan 3 o un altro Fused Fighter, sicuramente rientrano in Final Trump Card e di conseguenza... Si becca un totale di 33 e 22, 55% di riduzione del Danno, totale. Ok, per 5 turni poi è 33 e riduzione della battaglia. Cambia randomicamente le Orb in Rainbow. Buono per Goku e Mageta. Un'addizionale di più un Ki per ogni Orb. Ma buh. Un'addizionale di attacco in F100 in 12 Ki. Un'addizionale 77%, lancia un'addizionale special in 18. Buono. Un'addizionale 77% è ancora un altro. È critico garantito quando attiva l'artist skill o in 24? Vediamo un po'. Catroia. Questo c'ha crito garantito. Alta chance di additional difesa. Questo è quello che vi dicevo prima. C'ha questa alta chance di difesa. 777. Che è un assaggio, secondo me, di quello che ci aspetta per il prossimo meta. Ovvero questi boost improbabili, assurdi, per attancare bene quello che poi diventerà il nuovo meta. Sempre quando dicevo un attacco. Ok. Riduzione del danno del 44%. Ah, temporaneamente è countera con una special. Ah, contro la special Ki Blast. Ah, sarebbe il counter. Ok, quel counter che abbiamo visto ci fa subire il colpo. Soltanto perché visivamente dobbiamo vedere che lui subisce il colpo. Però effettivamente abbiamo il 44% di riduzione del danno. Più quello lì che abbiamo all'inizio della passiva. Diciamo che in teoria non dovremmo subire danni. 99% di R. Perché quanto eravamo arrivati di là? 55? Sì. Sì. Però per 5 turni. Perché dopo i 5 turni è 33 più 44. 77. Che comunque. Se comunque sono entrati i 777. Vuol dire non subire mai danno. L'acti skill. Ok. Si attiva dopo che ha subito 3 attacchi. Oppure se c'è un altro Final Tramp Card nel turno. Dopo il quarto turno. Ok. Abbiamo comunque due modi per attivare l'acti skill. E l'effetto è massivi resa attacco temporaneamente. Ultimate damage al nemico. Con una difesa del 77% da calcolare separatamente per un turno. Quindi quell'attacco dell'acti skill oltre a fare bei danni ci dà anche un boost alla difesa per quel turno. Non male. Ah. La lista delle categorie. E poi le due special. La 12. Grid, Rays, Attack and Death. E Grid, Rays, Attack and Death. E debuff con la 18. Category. Busaga, Fusion, Ibisena, Super Saiyan 3. Yacht. Kamehameha. Final Tramp Card. Special Pose. Rapid Grow. Savior. Connected Up. Gifted Warrior. Evelyn Evans. Perché combattono nel santuario. Time Limit. Master Revolution. Entrusted Will. Ma poi Connected Up. C'è categorie messe proprio per... Ehi, pullatemi. Ehm... Beyond, ok. Shielded Fighter. Red, Red, Red Fighter. Bello pieno di categorie. Comprese alcune. Proprio messe per... Per far... Per migliorare quelle categorie che sono scene. Mi sembra tipo il trio Intel l'anno scorso che per Power Clipar l'hanno dovuto creare Beast l'anniversario. Per Power Clipare questo non oso pensare che cavolo devono creare l'anniversario. No, ma è ovvio che l'anniversario fanno una roba senza senso. A me piace, ragazzi. E come ho detto già inizio live. A prescindere dal discorso legato a Jiren. Perché probabilmente... Non è ancora certo. Ma probabilmente nell'abbaccio ci sarà anche Jiren. Quindi noi del Global Fortunelli ci becchiamo due PG nuovi in un unico banner. Ehm... Se... Continua ad avere il rate tradoppiato l'abbaccio io ci pullo. Se malauguratamente invece per sfruttare il fatto che ci sono due PG nuovi levano il rate doppio non vedranno neanche una stone da me. La differenza la fanno i rate doppi per te. Ma è ovvio perché anche se nell'abbaccio ci stanno tutti i PG che ho full abiti. Io con il rate doppio sto triplicando il farming dei coin verbi. Ehm... Tra l'altro questo è un nuovo asset. Questo non si è mai visto. Quindi è un nuovo asset di Goku nella... Nella capsula rigenerativa. Vegeta pure. Mi sembra nuovo. Sì. Questo è il Vegeta che rimane un attimo stunnato quando... Crede di essere diventato Super Saiyan. Poi vede Freezer, fa il form e fa la merda. Mentre invece Krilin è quello della Saiyan Saga. Questo qua che grida... Grida aiuto a Goku che... Ma do cazzo stai che cazzo stiamo buscando tutto quanto. Pensaci, Goten si richiede a Final Trump e ci sono le fusioni al suo interno. Il trio... Int richiedeva Super Saiyan e sono usciti Broly e Gogeta. Se effettivamente Goku... Se ne fanno uno nuovo... Già che mi fai vedere... Questo... Magari è una specie di Entrance Animation. Entrance lui che sta guarendo... Fu riesce da lì e si presenta davanti al nemico. Con l'acti skill... O... Diventa Super Saiyan. Però effettivamente è il Goku che fa la Genki-Dama. E rientrerebbe in Final Trump card. Freezer invece è Final Trump perché era quello pompato. Diciamo... L'ultima... La sua ultima carta da giocare... Perché Final Trump card sarebbe anche l'ultima carta da giocare. La sua ultima carta da giocare è utilizzare il 100% del suo potere. Quindi... Anniversario a tema Final Trump. E non Fusion. Ha molto più senso. Allora queste vanno ad Ezza. Queste pure vanno ad Ezza. E ci stiamo dentro. Final Trump card... Le settimane anniversario... Sia Goku che... Sia Goku Kaioken... Che Vegeta Grandecime ci sono. Quindi tutte quelle lì del settimane anniversario rientrerebbero in questa categoria. E diciamo siamo ancora in tema con il... Con il Final Trump card come tema principale. Si parla del decimo anniversario. Goku una mech. Se me lo fai... Diciamo la versione migliorata di quello STR. Perché di quello stiamo parlando. Stiamo parlando della versione migliorata di questo. Avrebbe perfettamente senso. Fammi vedere un po'. Freezer in forma base non c'è. Però pompato sì. Quindi se volessero fare un Freezer nemico. Come... Per fare prima parte... Goku contro Freezer. Me lo fai Final Form... E poi diventa Full Power. Così almeno linkerebbe con l'Ezza di quello AGL. Perché... Perché... A questo punto... Il mega anniversario potrebbe essere che oltre al settimo anniversario ad Ezza... Vanno ad Ezza anche Goku una mech. Int e Freezer AGL. Se fanno... Allora Final Trump card. Prima parte una mech con Goku e Freezer. Seconda parte... Dici proprio banale banale fanno Gogeta, Dokkan Fest e Vegito Carnival. Perché Gogeta l'hanno già fatto Carnival durante lo scorso anniversario. Quindi a sto giro lo fanno Dokkan Fest e Vegito lo fanno Carnival. Vabbè ragazzi abbiamo risolto l'anniversario. Final Trump card. Questo è il tempo. 4,31. Cazzo... Questo è... Broly già trasformato in forma finale con l'acris kill attiva. Senza Buff. Già. Con Buffer in turno eh. Arriva quasi a 40 milioni con Crit. Sì sì sì. Sono d'accordo è un assaggio del decimo anniversario. Free eh. Questo è free sempre. Ricordiamo che lo stiamo calcolando free. Prima special... Un milione. E teniamoci su questo. Anzi no. E noi siamo certi... Che può... Che fa... Un add garantito. Quindi almeno una seconda special la calcolerei. Quindi... Invece di un milione era per due. Un milione e 394. Ok. Quindi si attiva quella... Quella percentuale. Quella percentuale. 50% di chance di avere 5 milioni di difesa. Oppure un milione e 4. Quindi nel... Nel turno in cui si attiva questa percentuale. Se attiviamo l'acti skill... Penso raggiunge la difesa più alta del gioco. Forse solo se il max nel... Nel taunt dovrebbe superarlo. Però non mi ricordo. 8 milioni e 860 di... Però con due special. Ne può fare ancora un'altra. E non abbiamo calcolato nessun buffer in turno. E questa era free. Pensa full. Pensa full. Pensa full. Pensa full.